E in fondo che faccio di male? Non faccio niente di male, pure se qualcuno mi vedesse in quei momenti all'alba, in una città sconosciuta, mentre entro in un locale di uno che dovrebbe essere un panettiere, però che in realtà non è un panettiere, dottorissa no, è una copertura. I treni, gli aerei, le albe, i mercativi. Cos'è più importante? Trovare o cercare? Dopo 40 anni, io sto ancora provando a completare Mexico 70. Da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa. Se a dieci anni mi avessero chiesto se volevo vedere la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka o la fabbrica di figurine di Giuseppe Panini, non avrei avuto dubbi. Lei invece che cosa colleziona di preciso? Le ho detto, colleziona tutto quello che è figurina. Ci scambiavamo le figurine, giocavamo anche a pallone, interminabili partite di pallone. C'era uno che tu mettevi le figurine sul tavolo, le buttavi. È una variante del Moretto. Si sono girate tutte, erano tutte mie. Ci mancava solo una figurina.